Isolamenti è una mostra organizzata dall'Associazione Culturale Sintesi negli spazi della Feltrinelli. È una mostra che raccoglie le opere di diversi soci, opere figurativi, quindi fotografiche, grafiche e pittoriche, e che mira a rappresentare la visione di ciascuno di essi sul tema dell'isolamento, coniugata ognuno col proprio linguaggio. Noi siamo un gruppo composto da tante persone, ognuno con la propria vocazione e la propria indole. Che si è unito, in momenti diversi, per realizzare insieme quel tipo di attività e progetti che come singole a volte è difficile fare, per avere un'unica identità che ci permettesse di fare cose belle insieme. Abbiamo voluto rappresentare l'isolamento attraverso due immagini di persone. Una è la persona che tendenzialmente è raccolta in una sorta di bluscio, in bianco e nero, e tenta di uscire, e viene avvolta dal nylon che ti raccoglie, perché uscire dall'isolamento, che è questa sorta di comfort zone, dove noi stiamo al caldo, dove spesso ci rifugiamo, è faticoso, ma ci porta verso lo stare bene. Per me l'isolamento che cos'è? Per me è il nulla, è una cosa piccola circondata dal nulla, che può essere una persona da sola, un paesaggio isolato, è l'esatto posto della felicità. Io ho utilizzato delle foto di paesaggio, delle foto in realtà di un viaggio, poi diversi soci ognuno ha usato a modo suo, cioè chi ha fatto ritratti in sala posa, chi ha dipinto, chi ha usato delle foto di urbex, chi ha fatto dei progetti multidisciplinari. L'altro invece è stato un pochettino una costrizione, quella che volutamente a volte ci ricerchiamo in termini di isolamento, a volte anche per proteggerci, per autosalvoguardarci, non è altro che l'immagine di questa persona che la ciamiera sulla bocca e due bottoni al posto degli occhi, e i fili dei bottoni colano come lacrime, perché comunque anche in quell'isolamento, nonostante cerchiamo conforto, si segue. Abbiamo in programma diversi workshop per i soci con modelle professioniste per migliorare le nostre competenze fotografiche, stiamo organizzando delle visite dentro e fuori Genova in contesti esclusivi, quindi aperti eccezionalmente solo a noi, per appunto poter fare insieme quel tipo di cose che da soli è difficile fare.